Dottoressa, ma da quanti anni opera in questo settore? Sono 15 anni che esercito la professione di odontoiatra e dopo 15 anni posso dire che l'odontoiatria è cambiata, si sta evolvendo sempre di più verso uno aspetto estetico. Cosa significa questo? Le terapie che vengono eseguite sono sempre meno estrazioni, delitalizzazioni o richieste di protesi mobile. Ci stiamo spostando sempre di più verso una parte estetica, aumento degli sbiancamenti, di un'ortodonzia estetica invisibile e della richiesta da parte del paziente di filler per i orari, che sono i ritocchi che ci consentono di migliorare il nostro sorriso. Alle donne in Basilicata piace essere belle anche attraverso un sorriso? Certo, questa è una richiesta che ora sta coinvolgendo molto anche noi. I trattamenti estetici, sebbene seguiti senza cedere, non vanno assolutamente a modificare quelli che sono i nostri lineamenti base. Ovviamente questo dipende dalla richiesta di un paziente e dalla quantità di filler che viene utilizzato. Il sorriso è il primo bigliettino da visita, fondamentale perché ci consente anche di modificare in positivo la nostra mimica facciale. Un paziente che si piace, è molto più rilassato nel suo modo di sorridere rispetto ad un paziente invece che si sente imbarazzato per qualche difetto, quindi va a modificare anche i muscoli che si muovono durante il sorriso. Un bel sorriso ci dà una maggiore sicurezza e una migliore autostima.